E come promesso arriva il corso di tecniche pittoriche Ciao a tutti e bentrovati sul canale Sorriso a 32 denti perché finalmente ho ultimato la progettazione del corso di tecniche pittoriche Ve l'avevo tanto promesso comincia una nuova stagione con gennaio per la vita di arte per te Fatta anche di corsi online un po' come facciamo già da tempo con il corso di disegno Ma in maniera un pochettino più particolare perché il corso di disegno è il corso base Che tutti gli amanti della pittura e del disegno dovrebbero fare Quello è un corso che rimarrà sempre sul canale a vostra disposizione Lo attiverò ogni anno ce lo permettendo Sarà sempre con voi a portarvi avanti nello studio del disegno, delle forme, della linea, dell'ornato Adesso però dobbiamo approfondire Basta solo matite e passiamo ai pennelli E allora ho pensato a un corso di tecniche pittoriche Della durata di un anno accademico da gennaio a giugno Durante il quale scopriremo una tecnica ogni mese Sarà un corso molto intensivo, molto colorato di apprendimento A cosa serve un corso di questo tipo? A cercare di capire qual è la tecnica che più è confacente al nostro spirito artistico A cercare quella tecnica più congeniale di cui innamorarci In cui sviluppare il nostro io creativo Perché se è vero che ci sono persone come me che bazzicano un po' in ogni tecnica Senza fare di ognuna la sua preferita Ma io vi ho sempre detto non ho scelto la professione di artista Ma la professione di formatrice e divulgatrice del messaggio artistico C'è chi invece vuole nell'arte trovare una propria professionalità Trovare un proprio sfogo creativo Trovare un proprio centro come persona artistica E allora in quel caso necessita che si abbia una tecnica preferita Nella quale andarsi a rifugiare ogni volta che si ha la necessità Di avere un confronto con se stessi in maniera intima Vi dirò la verità Anch'io ho la mia tecnica preferita Che sicuramente avrete capito nel corso di questi anni di arte per te Essere la tempera all'uovo È quella che mi dà più soddisfazione Più catarsi nello svolgimento del lavoro È quella in cui mi perdo E in cui non mi stancherei mai di vivere creativamente Quindi anch'io nel corso della mia carriera Ho scoperto quella che è la mia tecnica rifugio Quella che mi fa stare bene Quando io scrivo un'icona con tempera all'uovo Mi catapulto in un altro mondo Fatto di bellezza, di pace Di assoluto bilanciamento tra l'io esterno e l'io interno A questo serve la pittura A ritrovare se stessi A trovare la soluzione a tanti interrogativi Che durante la giornata ci ossillano A trovare quella pace interiore Che la quotidianità tante volte ci ruba Quindi regalatevi un corso di tecniche pittoriche Per scoprire quale sia la tecnica Che più si confà alle vostre corde creative Cosa tratteremo durante questo anno? Tutto segnato qui sul mio taccuino delle meraviglie Lo sto dicendo in ordine sparso Poi darò un ordine più sistematico alle cose Tratteremo delle tempere Degli acrilici Della gouache Degli acquerelli Dell'olio E dell'inchiostro Quindi queste tecniche saranno sviluppate Durante il nostro corso di tecniche pittoriche Cosa faremo? Faremo un argomento ogni mese E lo svilupperemo Prima dal punto di vista della tecnica generale E poi dal punto di vista delle varie casistiche E ogni settimana svilupperemo una casistica differente Faccio un esempio per l'olio Vi parlo della pittura a olio Vi spiego bene come comporla Come crearla Vi spiego bene come miscelare i colori Come fare dei colori che ritardino Dei colori che sicchino più velocemente Quindi avere il sentore della materia Dopodiché passeremo alle tecniche Dal tubetto per esempio Al pastello ad olio Fino a mecciare le due cose Quindi sarà un escursus Che magari vedrà protagonista La carta come supporto La tela e la tavoletta In maniera tale che ogni settimana Portiate a termine un lavoro Certo non saranno lavori grandissimi Ma saranno comunque lavori che vi daranno il sentore Di quella che è la tecnica E vi daranno man mano la padronanza Della lavorazione della tecnica Idem per le tempere Prenderemo tre tempere diverse E faremo tre lavori Idem per la tempera all'uovo Faremo tre lavori diversi Su tre supporti diversi Con tre utilizzi della tempera In maniera diversa E magari useremo anche Delle ricette diverse Di volta in volta Per capire Quella meglio confacente Alla vostra creatività E allora Questo così si svilupperà il corso Il corso avrà un costo di 150 euro E poi dovrete comprare via via Di volta in volta Il materiale che vi gioverà Questi 150 euro Copriranno tutto il corso Da gennaio a giugno Non dovrete spendere null'altro Se non naturalmente Comprare il materiale Che di volta in volta Vi dirò Ma che cercherò di tenere Il più basso possibile Molte cose ce le faremo da noi E qui sento le vostre domande Ma come mai ombrette Il corso di disegno Costa 100 euro E dura 5 anni E questo che dura 6 mesi Lo fai pagare 150 euro Molto semplice Il corso di disegno In realtà Per ogni anno È una lezione al mese Qui invece Avrete 4 lezioni Ogni mese Quindi In un anno Vi farete 4 anni Del corso di disegno In più Sarà un corso Molto diversificato Quindi imparerete Molte più cose E in più Avrete Una Prerogativa Che il corso di disegno Non ha Le lezioni del corso Di tecniche pittoriche Non saranno tutte in chiaro Il corso Si svolgerà così Ci sarà Una prima parte Della lezione Dove io Correggerò I vostri compiti E vi dirò Come sistemare il tiro Dopo che voi Avrete pubblicato Il compito Della settimana Precedente E questa sarà in chiaro Per fare vedere agli altri Quello che state facendo Come si compone il corso Quali sono gli sviluppi Di questo corso Perché noi non abbiamo Nulla da nascondere Dobbiamo fare vedere I nostri progressi E la nostra bravura E poi La seconda parte del corso Quello in cui Vi faccio vedere Come sviluppare la tecnica Che sarà Solo per voi Solo per voi iscritti Avrete me Sul mio piano da lavoro In diretta Che vi faccio vedere Come sviluppare Proprio Quello che sarà L'oggetto del compito Della prossima Della settimana successiva Magari non vi farò vedere Proprio il compito Ma vi farò vedere Tutti i passaggi Da fare Perché naturalmente Saremo in diretta Su Youtube Ma vi farò vedere Tutti i passaggi Da fare Per comporre bene Il compito O forse vi farò vedere L'intero compito Non lo so Questo ve lo vedremo Facendolo Ma sicuramente Avrete una parte Di lezione Che sarà Solo Ed esclusivamente Vostra Sarà una vera E propria Lezione privata Dove Mentre faccio Posso anche Rispondere alle vostre domande Alle vostre curiosità Che sorgono A quelli che Sono i vostri interrogativi Quindi capite bene Che è un approfondimento successivo Quanto durano le lezioni? Io sono sempre molto elastica Lo sapete Non sono una Attaccata all'orologio Diciamo che La lezione minima Dura un'ora Ma Possiamo anche Protrarci Più di un'ora Diciamo che Tra l'un'ora E le due ore Nel mondo artistico Non c'è mai Un Per quanto mi riguarda Un fermarsi Ad un certo punto Più che altro Devo dare gli orari Per voi In modo che possiate Organizzarvi La vostra giornata Successiva E Non bloccarvi Davanti al pc Potete cominciare A prenotare Il vostro posto Sin da adesso Ovviamente È un corso A numero Chiusissimo Quindi Potete cominciare A prenotare Le vostre iscrizioni Mandandomi un messaggio Su facebook Alla pagina Arte per te Facebook Pennello bianco Su fondo rosso Perché poi I pagamenti Veri e propri Cominceranno Da gennaio Dal 2 gennaio Ma intanto prenotate Il posto In modo che poi Verrete ricontattati Tutti Vi sarà Remandata La modalità Di pagamento È il materiale Che dovrete avere Intanto Per È il materiale Che dovete comprare Avere via via Per il corso Distinto In vari mesi In modo da non doverlo Comprare tutto insieme Ma al poter Dilazionare Anche gli acquisti Bene Spero che questa Fantastica novità Vi sia piaciuta È il mio regalo Per il 2023 È un corso Sperimentale Siete i primi E di solito I primi Sono sempre più fortunati Perché prendono Tutto il mio Entusiasmo iniziale Quindi Correte Alla mail E prenotate Il vostro posto Mi raccomando Mi raccomando Non fate Quelli che prenotate Poi al momento Poi di iscriversi Ve la date a gambe Tutti Perché non è serio Volevo semplicemente Dare la possibilità Di capire Quanti saremo Più o meno Se raggiungiamo Il minimo Per avviare il corso Perché ovviamente Se non raggiungo Un tetto minimo Il corso Non lo avvio Nemmeno Se non ho una convenienza Anche dal punto di vista Di impegno temporale Rientro Non lo avvierei Quindi Intanto Prenotate Il vostro posto Tramite messaggio privato Da inviare Sulla pagina Facebook Arte per te In cui direte Ciao ombretta Io sono Tizio Caio E voglio partecipare E ti dico Sin adesso Che parteciperò Al corso Di tecniche pittoriche Quindi Vi verrà mandato Tutto La modulistica Per partecipare E il materiale Da acquistare Bene Parte un anno Pieno di colore Su arte per te Con il corso Di tecniche pittoriche Il corso Mi raccomando Non è rimborsabile Quindi Se non siete convinti Non iscrivetevi Ma una volta iscritti Non mollate la presa Mi raccomando Voi lo sapete Io vi trascino Veramente In tutti i modi Nell'entusiasmo creativo Il resto Dovete farlo voi Dovete essere In gamba Forti Volitivi Perché saranno Tante le cose Che vi metteranno In crisi Durante questo corso Ma è una crisi Bellissima Una crisi di crescita Una crisi In cui vi incontrerete Vi scontrerete Con il colore E comincerete A conoscerlo E certe volte Avrà un caratteraccio E certe volte Sarà affabile Meraviglioso Ed avvolgente Il corso Si terrà Di lunedì sera Alle ore 21 Come per il corso Di disegno Lunedì sera Alle 21 Ci sarà La lezione Su youtube E si posteranno I compiti Su facebook Come per il corso Di disegno Con la differenza Che la lezione Di youtube Sarà creata Da due video Due dirette Una diretta In chiaro Per tutti E una diretta Privata Solamente per i partecipanti Al corso Che seguirà La diretta Per tutti Sarà un corso Serale E in modo che Possiate essere Tutti a casa E possiate Seguirmi In maniera Continuativa Senza problemi Quindi affrontiamo Questo corso Sempre in maniera Molto easy Molto amichevole Senza essere Agguerriti Ma essere Disponibili All'acquisizione Il più possibile Vi aspetto Con le vostre Tante mail Di partecipazione Sulla pagina facebook Di arte per te Vi lascio il link Qui giù In infobox Spero di vedervi Numerosi A questo corso Di tecniche pittoriche Spero di vedere Tanti i miei Ex allievi Del corso Di disegno Per rifare Un po' Classe insieme E progredire Un po' Nella crescita Creativa E soprattutto Per ristaurare Un nuovo rapporto All'interno Di un nuovo corso Che sarà Molto molto diverso Da quello di disegno Saremo molto più vicini E molto più in contatto E allora Mi raccomando Iscrivetevi Io vi aspetto Numerosi Non mi rimane Che salutarvi Ricordarvi Che libreria Vi aspetta Il ricettario Dell'arte Che vi servirà Potrebbe servirvi Molto Per il corso Di tecniche pittoriche E vi aspetto Sempre qui Per il prossimo video Da ombretta E da arte Per te È tutto Vi aspetto Tutti Numerosissimi A presto Ciao 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 Grazie.